Musica Benvenuti su ETV, all'appuntamento con Buonasera Marche. E questa sera dagli studi di ETV Macerata abbiamo ospiti, due artisti marchigiani a cui siamo molto affezionati e siamo contenti di ospitarli qui. Abbiamo i fratelli Romitelli, Valeria e Piero. Buonasera e benvenuti. Ciao Diziana, ciao a tutti. Ciao a tutti. Valeria e Piero, già insomma molti noti per il vostro percorso artistico fino a questo momento, ma ora più che mai accendiamo le luci su di loro perché in questi giorni si stanno preparando per Sanremo. E hanno già superato due selezioni e si apprestano al rush finale per approvare ufficialmente l'edizione 2016 del Festival dell'Ariston con il brano Mai Abbastanza. Quindi cerchiamo di capire di più come vi state preparando all'appuntamento e facciamo tutto il tifo per voi. Ricordiamo insomma, siete fratelli da Morrovalle e sei l'autore del testo e musica e invece Valeria canta. No, canta ma anche partecipato comunque alla costruzione del brano dall'inizio, comunque c'è stato un apporto anche da parte sua. Mai Abbastanza è dedicato alla mamma. Sì. E quindi iniziamo dal motivo, insomma, da come nasce questo pezzo per te e Piero. Ma è una storia molto particolare perché inizialmente avevamo pensato di portare un'altra canzone, di presentare alle selezioni per Sanremo. E poi l'ultima settimana è nata questa canzone che si intitola appunto Mai Abbastanza ed è un brano molto molto sincero, forse il più sincero che ho mai scritto. È nata in maniera spontanea, in mezz'ora. Di solito le canzoni hanno dei tempi particolari, magari alcune impiegano mesi, settimane per venire alla luce. Questa in mezz'ora è nata perché è stato proprio un flusso di pensieri spontanei che sentivo di dire per dire grazie appunto a mamma in musica, visto che non ce la faccio di persona a dirglielo, quindi l'ho fatto nella maniera in cui mi riesce meglio. Di mamma Fabiola viene insomma ringraziata anche attraverso questo brano e l'emozione di cantare questo pezzo. È un'emozione grandissima perché poi ho visto nascere tutta un po' tutta la canzone, ho visto e so anche cosa significa perché comunque ringraziare una mamma solitamente non lo fai spontaneamente, nel senso è più difficile andare lì e dire mamma guarda grazie per quello che fai, perché alla fine diciamo voi non vuole ma a me sono quelle che tengono in piedi la famiglia, sono i pilastri e comunque questa canzone è rivolta a tutti coloro che comunque sono i pilastri per una persona, sono comunque le persone importanti che magari tengono unite le persone. E attraverso insomma anche l'arte che mi sta più nel cuore, volete dire grazie in questo modo alla vostra mamma Fabiola? Sì, diciamo che il brano per me è nato così, poi ognuno, la canzone è molto aperta perché non è che faccio delle citazioni nel brano, quindi ognuno poi ci rivede la storia sua, se c'è una persona in particolare a cui ci si immedesima, vuole dedicarla, ovviamente è libero di farlo. In generale funziona così ecco. E il vostro papà è stato contento della scelta? Cosa dice? Sponde? Diciamo che adesso è in silenzio. Silenzio stampa? E' sempre molto vicino insomma anche al punto di vista artistico, le vostre scelte, quindi in questo caso partecipe, protagonista diventa la mamma. Ma sì, sì, perché? Sì? No, perché ha iniziato un po' tutto con lui, nel senso lui che ci ha messo su un palco per la prima volta, ci ha dato il microfono in mano, quindi il grazie è anche per lui, ecco. E avete altri due fratelli, giusto? E loro come vi sostengono in questa avventura? Eh, siamo una famiglia unita comunque, ovviamente come tutte le famiglie ci sono, siamo un po' particolari. Ecco, lo sottolineo io. Famiglia di artisti. No, no, i fratelli sono carinissimi. Hanno scelto altri percorsi? Sì, che poi sono correlati perché Luigi fa il modello e ha un'attività che precedentemente avevo preso in gestione io, che è un circolo, che poi ci siete stati, ci siete venuti in Amorovalle, sì. Fa anche il modello e ha partecipato all'ultimo videoclip di Carmen Consoli come attore, quindi lui sta andando a fare, invece Paolo studia, studia... È piccolino questo termiciale. Sì, sì, adesso ho preso il motorino. Pericoloso, pericoloso. A proposito di video, c'è anche un video, ma insomma per anche paura di eventuali, insomma, diritti e quant'altro non lo possiamo far vedere, però... Se volete vedere comunque sul sito di Sanremo, Rai, c'è il link. Sì, e quindi ricordiamo due videomaker locali, Roberto Niggi e Luca Bellezze. Sì, siamo nel maceradese più totale. Quindi avete pensato anche di omaggiare anche questo territorio con questo video, immagini ambientato. Sì, sicuramente il territorio perché la location è bellissima, l'abbiamo registrato in parte vicino alla badia di Fiastra, in parte invece al mare, perché i nostri territori ce li invitano in tutta Italia e in tutto il mondo, solo che noi certe volte non li apprezziamo fino in fondo. Abbiamo detto, avete già superato due selezioni, quindi da 700 su web, siete arrivati a 60, da 60 a 12 in questa audizione live davanti alla commissione Rai presieduta da Carlo Conti. E ora... Il duro. Il duro, sì. Il duro è il bello. Il duro. Quindi ricordate questa data, 27 novembre, prima serata su Rai 1, dal palco di Sanremo, siete tra i 12 finalisti che diventeranno poi sei. Insomma, un 50% di probabilità. Esattamente, cioè in realtà noi abbiamo iniziato questa avventura un po' per gioco, un po' per... ma forse perché in generale ci sottovalutiamo, io perlomeno parlo per me, l'abbiamo iniziata senza grandi aspettative e quando inizi una cosa del genere vai e dici faccio un tentativo, prova, poi neanche ci pensi, non ci butti il pensiero. Poi quando siamo entrati nei 60, cioè, ci ha sconvolto la notizia perché non ce l'aspettavamo proprio, perché non è che abbiamo un'etichetta fortissima alle spalle, noi ci siamo presentati con il nostro publishing, che è quello che mi permette di scrivere canzoni appunto ad altri interpreti. E poi niente, ci siamo ritrovati in ballo e abbiamo detto balliamo, solo che il bello e il brutto viene adesso, perché all'inizio non... cioè nel senso non ci metti il pensiero, adesso ti cominciano a tremare un po' le gambe, perché in Quartu, anche se non ci vuoi pensare, ci pensi a quell'obiettivo che sarebbe un sogno per noi. Per Valeria sarebbe la prima volta su Rai 1. Per me sarebbe la prima volta, io infatti già la vivo con Anja. Ci sei venuta a vermi però. Sì, io però, in mezzo alle persone, ecco, non sul palco. Sì, sì, con mamma che mi punzecchiava, Valeria, 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 come sta andando, come sta andando, quindi... Si era in tutta la performance. Sì, sì, figurati come ho potuto vedere l'esibizione, però è un palco che sogni, no? E quindi per me è già tanto andare... Ah, ma in tanto ci andiamo. Eh, infatti, per me è già tanto andare a fare l'audizione proprio su quel palco, perché è stato sempre il sogno di una bambina che avevo, no? Quindi poter stare lì in prima serata sul palco dell'Ariston, posso dire, oh, io sul palco dell'Ariston ci sono stata. Ricordiamo perché, ecco, Piero ci è stato più volte da, sia da cantante, che anno era? 2007. Con, in coppia con... Grande Pippo c'era, e con Pietro Napolano eravamo i P4. Sì, con i P4, poi anche lo scorso anno con il brano di R-Jack. Con l'anima l'anno scorso. Esatto, quindi con i D-R-Jack, che poi magari al di là della classifica, diciamo sempre che poi la classifica del Dopo Festival non è mai, insomma, la verità di quello che il pubblico apprezza, è stato... È stato il secondo album più venduto tra tutti quelli in gara e al Televoto sono arrivati i secondi, quindi benissimo così, insomma. E quindi... Il Festival l'ha vissuto come una vetrina e non... la gara è fina a se stessa. E ogni volta, per lei è la prima volta, ma per te ritornare? Eh, io ormai potrei fare la video turistica a Sanremo. Ho fatto anche l'inviato. Ho fatto anche l'inviato per voi. L'inviato e quindi, insomma... Sono navigato. La prima serata, in diretta, una possibilità su due, il 50%. No, ma vuoi sapere il bello qual è? Ovviamente tu dici tutte queste cose, ho fatto Sanremo, autore, tutto quanto, sono stato al Festival, pure diverse volte per le selezioni. Siamo andati a fare l'audizione e tra i due quello più... Non si può dire il termine in televisione, però che c'era la strizza, ero io, capito? E lei proprio... Ma io c'era via, perché c'è anche partecipazione comunque ad amici, quindi comunque questo reality, che è una grande palestra al di là della visibilità, con l'approccio anche, insomma, alle telecamere, alle dirette e quant'altro. Oddio, non ci si abitua mai, non ci si abitua proprio mai, infatti... Però, sì, cioè nel senso... Mi trovava in oleva, giusto? Tre anni fa hai partecipato ad amici? Io tre anni fa ho partecipato ad amici, è stata una bellissima esperienza, sotto tutti i punti di vista personale, artistico, perché comunque entri in contatto con professionisti che lavorano nella musica, quindi per me è stato importantissimo. Una crescita? Sì, 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 è una crescita, sotto tutti i punti di vista, ecco, e quindi... però non ci si abitua, cioè... anzi, sarebbe brutto un po' abituarci, sì, perché comunque... Sì, 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 l'emozione, insomma, da libera, da superare, insomma, fa parte del gioco. A cos'altro state lavorando in questo momento? Ovviamente questo è, magari, come avete detto anche voi, quasi inaspettato, giustamente vi state concentrando fino al 27 novembre, penso su questo, però c'è qualcos'altro? Sì, perché io personalmente non ce la faccio a stare fermo, ci stiamo concentrando su quella performance, quindi stiamo provando molto il brano e anche... Dove provate? Al ristorante! No, è vero, giuro, proviamo al ristorante per la musica! Sì, proviamo l'impianto, sì. E poi proviamo anche la cover, che però non possiamo dire per segreto, presenteremo anche una cover rivisitata da noi, molto bella, di un artista che stimiamo molto. Moltissimo! E poi niente, stiamo lavorando il nostro primo album, che a prescindere da questa cosa, se accadrà o no, comunque ci stiamo lavorando da un bel po' di tempo. E nel frattempo io scrivo anche canzoni per altri. Sì, sì, nel tempo perso, sì. E quindi tra le prove e tutto, poi state studiando, insomma, quindi... Ho saputo che Valeria sta studiando anche il look, insomma, puoi presentarsi all'Arison, sempre insieme. Sì, e lei l'ha detta al look, io non mi so vestire. È il mio compito, sì. Non diamo troppe anticipazioni, però magari qualche curiosità? Ma, saremo molto semplici, molto semplici, però... Raffinati. Raffinati, con delle linee che magari possono riportare un po' al retro. Com'era? Retro futuristico? Sì, è un retro futuristico, ecco. Questo è un termine che ha coniato lei. Sì, che ho... Retro futuristico. Retro futuristico e a questo punto ringrazierei anche le ditte che ci hanno aiutato. Della zona. Perché sono tutte della zona, vogliamo questo. Cioè, noi vogliamo andare con le persone che comunque ci hanno aiutato fino in questo periodo e che comunque noi vogliamo spingere il fattore marchigiano. Cioè, nel senso, noi le marche siamo affezionate, abbiamo delle ditte bellissime e quindi, se possiamo, uniamo tutto. Sarà quindi una vetrina che per loro è importante dire, siamo stati anche noi sul palco dell'Arison. Esatto, magari. Sì. E la mamma l'ha ascoltato il prezzo? Quando, come, dove? Sì, no, la mamma l'ha ascoltato e fino a qualche giorno fa non sapeva che fosse per lei. L'ha scoperto dai giornali perché io non glielo ho detto, poi sono di poche parole, capito? Io l'ho fatta ascoltare, ovviamente si è emozionata come lei tantissimo. Poi il bello di questa canzone è che, a prescindere che io dedico queste parole a lei, cantandola insieme ci siamo accorti che potrebbe essere un dialogo tra fratello e sorella, c'è una sorta di conforto e di stima reciproca che abbiamo l'uno per l'altro. L'altro. Si plasma bene un po' a tante situazioni, ecco, io sono di parte però a me piace molto, moltissimo. Stai lavorando, mi hai detto anche altre cose, pochi giorni fa c'è stato anche l'incontro qui a Civitanova con Raf, ho scritto un brano anche per lui. Sì, ho scritto con Luca Vicini, il bassista di Subsonica, Eclissi Totale insieme a Raf. Vi siete incontrati, perché poi l'altra volta ci spiegavi questo strano meccanismo tra autori e artisti che magari neanche vi siete mai incontrati e cantano il pezzo. Sì, in realtà noi ci siamo... Questo incontro è venuto postumo. No, in realtà c'era stato uno scambio epistolare. Sì, scambio tutto web. Ci eravamo confrontati e devo ammettere che Raffaele è una persona eccezionale, veramente, di un'umiltà infinita. E poi il concerto è stato una sorpresa perché poi ti rendi conto di quante canzoni ha scritto per la musica italiana, perché su un concerto di 30 canzoni, 20, sono canzoni pop conosciute proprio da nazionalpopolari, bellissime, che conoscono tutti, cioè partire da self-control a cosa resterà degli anni 80 fino appunto alle ultime canzoni. È grandioso, è una bellissima persona, c'è stato un bel attestato di stima nei miei confronti. Quindi Raffaele per gli amici e per Piero. No, veramente, è un grande. Invece, altra curiosità, sigla per una fiction sul web, ho capito male? Sì, se vogliamo svelare questa cosa che io ero allo scuro. Sì, abbiamo scoperto, esatto, abbiamo scoperto insieme tra... Sarà che vivo sempre studio, quindi non sono aggiornato sulle cose. Insomma, tra i tanti misteri del web. Cioè, su Facebook, così sfogliando le notifiche, mi sono imbattuto su questa cosa, che in realtà il domani è un altro film, il brano appunto che ho scritto insieme a Davide Simonetta per The Air Jack, è stato scelto come colonna sonora della prossima webserie Rai, lontana da me, bellissimo dal trailer, quindi non vedo l'ora di vederla. E quindi che cosa puoi dirci, insomma, anche su questo momento che stai vivendo anche l'autore? Dall'altro dici che è sempre più difficile avere un'etichetta, però ci sono queste altre forme che, diciamo, lanciano comunque delle opportunità. No, ma infatti io come autore non posso veramente recriminare niente, cioè sto facendo un cammino sempre di crescita, continua, e quindi ringrazio tutti gli interpreti che decidono di mettere la loro voce, la loro faccia con le mie parole e la mia musica, bellissimo. Bello, sì. In questo caso è vale. No, vabbè, però, no, è bello. Anche perché devo dire che è tutto iniziato grazie a lei, quindi è bello. Sì, tu senti comunque la tua vocazione principale, cantante, autrice? Ho fatto qualcosa, sì. Diciamo che la musica riserva sempre delle grandi sorprese, e quindi vediamo, cioè non mi voglio prefissare solo il fatto di dire no, sono solo una cantante, faccio tutto. E anche dall'esperienza di amici che cosa hai potuto anche scoprire, lavorare, quali sono anche le amicizie che sono rimaste? Ma sì, le amicizie rimangono. E che posso dire? È stata una bellissima esperienza. Sono piena di ricordi, io so dove tu vuoi andare a parare, però... No, no, per capire, poi, perché comunque ci sono tanti, poi alla fine anche tanti artisti che vengono scoperti, però mali più di altro, poi non trovano tantissime opportunità nel proseguo finita, insomma, la serie. Un po' questo volevo capire, cosa resta, cosa resterà? Di questi anni? In realtà bisogna lavorare molto, bisogna entrare amici, o comunque come ogni altro talent, puntando ad imparare. E poi quello che sarà, sarà, comunque le difficoltà ci sono. Io ad esempio, ecco, sono tre anni che comunque non... Faccio difficoltà... Ecco, anche il tipo di opportunità, sono trampolini, cioè magari un pochino più per una visibilità, che però magari una volta finita il reality, insomma, diventa difficile, magari continuare poi, come dice anche lui. Diventa difficilissimo, diventa difficilissimo. La cosa positiva è che comunque puoi continuare a cantare nei locali, nelle piazze, questo sì. Però diventa difficile trovare qualcuno che comunque... Pronto a investire sull'idea. Sì, è disposto a investire... Reality a parte, ora concentriamoci su Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, e quindi, insomma, il 27 novembre è vicino. Vicinissimo. E quindi, che cosa vi hanno detto anche dal territorio, insomma, da tutti coloro che hanno appreso questa... Abbiamo avuto un riscontro positivo. Anifestazioni di affetto. Sì, è un riscontro positivo che comunque, sai, è difficile trovare soprattutto in questi momenti, in queste circostanze, no? Perché comunque proponi una cosa che non è detto che piaccia e siamo molto contenti, perché comunque vediamo che sta andando bene, ecco. Quindi proseguiranno le prove al ristorante con porte chiuse? Sì, a semi aperte. Semi aperte. Sì, sì, è capitato. Abbiamo sentito della musica, ma è vero, è vero. È vero, è vero. È successo. Ovviamente quando la canzone era ancora... cioè, era stata resa nota, poi, sul sito Rai. Quindi magari vogliamo fare un appello, innanzitutto, se per curiosare anche sul web poter vedere mai abbastanza di Valeria e Piero Romitelli, c'è il videoclip, c'è la canzone, magari se ci sarà anche un televoto, vediamo, magari a sostenere. Ancora il televoto? Ancora? Basta, basta il televoto. Se non starremo, insomma. Però comunque, un piccolo appello. No, vabbè, magari, noi ci vorrebbe piacere. No, la cosa che ha detto Valeria è molto importante, nel senso che la gente, soprattutto del posto, ha percepito la sincerità del progetto. La spontaneità è il fatto che è genuino, è fatto da due ragazzi di 20, ormai quasi 30 anni, senza alle spalle una grossa measure. Quindi abbiamo fatto tutto da soli, e ovviamente aiutati appunto da sponsor, da persone che ci hanno aiutato. E quindi, secondo me, è bello vedere due ragazzi che si rimboccano le maniche e ci provano a fare un'impresa titanica. E noi facciamo i nostri, innanzitutto, grandi in bocca al lupo e... Forza! Io è il lupo, io è il lupo, io è il lupo. Viero, quindi Valeria e Pierromitelli, a Sanremo, mezzetto nove per quest'anteprima, su 12, arriveranno in sei, tra le nuove proposte in gara tra i giovani, con Mai Abbastanza. Grazie davvero per essere stati con noi, ospiti, e buonasera Marche. Grazie a te, grazie a voi come sempre. Grazie anche a Valeria. Grazie a te, ringrazio tutti. È sempre un piacere, veramente, è sempre un piacere stare qui con voi. Ormai sono di casa qua. Buon proseguimento con il TV e buonasera Marche e termina qui questo appuntamento. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.